Allora il threat model, il security planning, si basa sul identificare chi siamo, identificare cosa abbiamo, identificare il valore delle cose che abbiamo e identificare chi sono i nostri nemici, che potere hanno, che competenze hanno e qual è il costo nell'attaccarci. Ciao a tutti e benvenuti su Checkpoint Bitcoin. L'intervista di oggi è con Riccardo Masutti, uno specialista di privacy ma anche uno specialista di Lightning Network, ovvero il protocollo per micropagamenti costruito su Bitcoin. Questa è una puntata introduttiva al Lightning Network ma anche alla privacy che Lightning Network porta per Bitcoin, quindi se questi argomenti vi sono ancora sconosciuti o poco chiari, questa è l'intervista da seguire. Io sono Fabio, autore di Checkpoint Bitcoin, un progetto divulgativo focalizzato su Bitcoin che è anche su YouTube, quindi se vi interessano questo genere di argomenti iscrivetevi al canale. Con questo vi saluto, vi ringrazio e vi lascio l'intervista con Riccardo. Benvenuto Riccardo Masutti su Checkpoint Bitcoin. Ciao Fabio, grazie, grazie per l'invito. Riccardo Masutti che è il responsabile Cyber Security per Bitfinex e Tether. Io ti ho invitato qui oggi per parlare di Lightning Network, di privacy e anche del libro che uscirà tra qualche giorno che tu hai tradotto, quindi Mastering Lightning Network. Ci darai qualche anticipazione, ci fai capire un po' di che si tratta. Volentieri. Tu sei un esperto di Cyber Security, di privacy, io ti lascerei. Ti fermo, sai perché? Perché a me non piace la parola esperto, perché io dico sempre che nell'informatica, specialmente in Bitcoin, siccome è così dinamico, così in costante sviluppo, essere esperti è impossibile. Mi piace un po' più la parola specialista, ok? Perché specialista non hai raggiunto ancora l'apice, la punta, quindi no, per scherzare, per rompere un po' il ghiaccio. Mi piace definirmi specialista, mi piace quando la gente si definisce specialista, però insomma se dici che sono esperto mi fido, trust, don't verify. Diciamo che sei uno che ne sa tanto, ho più della media, più della media, perché non ci vuole, pure io ne so più della media, però diciamo molto più della media, ok? Mettiamola così. Comunque, visto che, anzi, non supponiamo, su questo canale ci sono anche persone che sono appena avvicinate al mondo di Bitcoin, quindi uno dice ok, ti lascio la parola a un tema di privacy, ma tu chi sei? Cioè se uno non ti conosce, perché mi dovrei fidare di quello che dice Riccardo Masotti? Quindi magari spiegaci un po' chi sei, come ti sei avvicinato a Bitcoin e di cosa ti occupi oggi? Ma chi sono? Io sono un ragazzo essenzialmente che durante il suo percorso ha cercato di fare tante cose. Io sin da piccolo sono stato molto molto curioso e secondo me, cioè ripensandoci queste cose qua, ho cominciato a dirla recentemente anche in un recente podcast, ripensando quello che facevo da piccolo capisco poi il mio sviluppo nel tempo e perché poi sono diventato un hacker, perché comunque io ho un background da hacker, proprio sin dalla giovane età, e l'hacker come mindset, come informamenti sa quella di essere molto molto curioso, quindi se da piccolo mi divertivo a aprire giochi, telecomandi, telefoni eccetera eccetera eccetera, poi crescendo, incominciando ad avere un computer sotto mano, incominciando a navigare su internet, ho incominciato ad essere curioso anche sui siti web, sui server, sulle persone. Quindi insomma tutta la parte della sicurezza informatica e privacy digitale io me la sono vissuta da parte dell'attaccante. Perché comunque era una curiosità da parte mia, cercare di spingermi oltre i limiti, cercare di ricavare informazioni e entrare su luoghi dove non si potrebbe entrare. Anche nella stessa cosa nei videogames, io da piccolo mi divertivo a giocare nei videogiochi, non tanto per fare la storia o per uccidere il multiplayer, ma per trovare bug e le glitch per avere un vantaggio nel gioco. E questo essenzialmente è quello che mi ha portato a diventare assieme più curioso e a cercare di definirmi professionalmente come specialista in questo caso di sicurezza informatica e privacy. Provo per una passione. Fortunatamente da un paio d'anni il termine hacker e comunque il concetto di sicurezza informatica è diventato un po' più presente. Non c'è più il dogma, non c'è più la stigma, la cosa negativa, il termine hacker visto come una cosa negativa. Invece adesso si capisce che l'hacker può essere un hacker etico, un hacker malevole eccetera. Io nel mio percorso, andando comunque a vedere i lati negativi dell'informatica, violando sistemi eccetera, violando privacy delle persone, ho comunque deciso di prendere una strada particolare che è quella del white hacker, cioè di cercare di sfruttare le mie skill, le mie conoscenze in tal ambito per aiutare le persone, per aiutare le aziende nel difendersi di attacchi hacker. Poi questa cosa comunque ovviamente mi ha portato anche a Bitcoin, perché frequentando comunque determinati ambienti online, comunque siti, forum, web, magazine, blog eccetera, il termine Bitcoin veniva spesso citato, no? Sicché io mi informai, ma era veramente un ragazzino, cioè era molto molto piccolo, e mi interessava, no? Ovviamente, perché vivendo totalmente in un contesto digitale, mi piaceva l'idea di moneta digitale. Non c'ho mai avuto alcun interesse lato economico, finanziario, oltre al fatto che non mi interessava proprio, ma proprio non avevo un euro in tasca, perché da ragazzino non c'è un euro. Quindi mi sono, insomma, appassionato di Bitcoin, e ho incominciato a vederlo dalla parte, cioè dal mio punto di vista di sicurezza. Quindi ho incominciato a scrivere in inglese, ma aveva veramente un ragazzino, articoli su come metterli in sicurezza a Bitcoin Core, su come metterli in sicurezza, eccetera. Quindi questo poi mi ha portato sempre di più a parlare di Bitcoin, a parlare dei temi che conoscevo di Bitcoin, che erano quelli della sicurezza e della privacy. Da un po' di tempo ho deciso anche di metterci la faccia, e qualcuno potrebbe dire, ma cavolo Riccardo, tu parli di privacy e ci metti la faccia. Ma perché la privacy è proprio questo? È il controllo che tu hai sulle informazioni che vuoi condividere con qualcuno. Cioè, avere privacy significa esattamente il poter decidere, se si vuole, di metterci la faccia, però non essere completamente trasparenti su Bitcoin, ok? Se io invece fossi obbligato a metterla a faccia, o fossi obbligato a non metterla a faccia, o fossi obbligato a utilizzare Bitcoin in maniera trasparente, o in maniera privata, quella non è privacy, quella è costrizione. E quindi, vedete, la privacy è questo, secondo me. Io parlo di sicurezza informatica perché serve avere sicurezza in Bitcoin, perché siamo gli unici garanti della nostra sicurezza, e parlo di privacy perché altrettanto serve avere privacy, perché siamo gli unici garanti della nostra privacy. Ok, ok, quindi diciamo che sei partito fin da piccolo con questa curiosità e poi ti sei spostato nel mondo hacker, tra virgolette, o cyber sicurezza, e adesso ne hai fatto una professione, giusto? Sì, 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 beh, io spendo la maggior parte, anzi, cioè, la maggior parte, tutto il mio tempo in questo mondo, nel senso proprio professionalmente mi occupo di cyber security privacy, specificatamente su Bitcoin, perché ritengo Bitcoin come una di quelle innovazioni che rimarranno e quindi ho comunque deciso di spenderci la maggior parte del mio tempo professionalmente. Poi comunque, cioè, buona parte del mio tempo libero la sfrutto anche proprio per educare su questi temi, speech, video, interviste come questa, podcast, perché secondo me, ecco, educare è molto, molto importante. Bitcoin è complesso, non lo nascondo, e quindi serve educazione, quindi ti ringrazio, Fevo, per l'invito e comunque mi congratulo anche per il lavoro ed educazione che fai, perché è molto, molto importante. Grazie, grazie, grazie a te e anche a tutti gli altri divulgatori da cui sai ogni tanto si prende e si scambia, no? Cioè, è anche quello il bello, no? Qualcuno è sempre più, come dire, competente di te, puoi prendere e trasformare quella educazione in qualcos'altro. Allora, parlando di privacy, Bitcoin sappiamo che è trasparente, no? La blockchain è trasparente, per quanto tu online puoi ancora leggere che Bitcoin è un sistema anonimo, quindi uno magari pensa, ah, uso Bitcoin, sono nella più completa oscurità, così non è. Inoltre, però, anzi, non inoltre, diciamo che da qualche tempo si è sviluppato Lightning Network, questo protocollo, costruito su Bitcoin, che talvolta viene quasi considerato la soluzione alla privacy di Bitcoin definitiva. In realtà, da quanto ne so, da quanto ho capito io, sono due sistemi che si, come dire, si appoggiano l'uno all'altro e vanno entrambi saputi usare con consapevolezza, perché i problemi di uno magari si risolvono con l'altro e viceversa. Allora, per tutti quelli che, oggi noi parleremo specificatamente di Lightning Network, quindi Bitcoin lo tralasciamo, quindi ci fai magari un'introduzione sul Lightning, ci spieghi cos'è in breve e in che modo si affianca a Bitcoin per quanto concerne la privacy, proprio per fare un'introduzione sull'argomento. Rispondere alla domanda se Lightning Network è privato o meno è molto difficile, cioè tutti i concetti di sicurezza informatica o privacy, adesso si basano su dei presupposti di sicurezza, su dei modelli di sicurezza. Lightning è un secondo livello di Bitcoin che va a migliorarlo sotto alcuni aspetti. Come ben sappiamo, Lightning permette di fare commissioni in maniera più veloce, in maniera più economica, in maniera più privata, poiché tali transazioni, anzi tali pagamenti, perché poi vedremo anche la differenza tra le transazioni e i pagamenti. Allora, aspetta, 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 se no ci perdiamo. Diamo prima una definizione di Lightning per chi non lo conosce, per chi ancora non ha capito bene cos'è. C'è Bitcoin con la sua blockchain per le transazioni in tutto il mondo, censorship resistant, inconfiscabile e così via, lo sappiamo. Ma cos'è Lightning per chi non vive sulla terra? Allora, Lightning è essenzialmente un secondo livello di Bitcoin, ok, al di sopra di Bitcoin, ed è una rete di pagamenti instradati peer-to-peer. Cioè, se su Bitcoin noi per effettuare una transazione dobbiamo conoscere l'indirizzo del nostro destinatario a cui vogliamo inviare la transazione, questa transazione poi la annunciamo alla rete di Bitcoin, la propaghiamo, aspettiamo che i miner di Bitcoin includano questa transazione in un blocco e la confermino, su Lightning è diverso. Lightning è appunto una rete di canali, ok? Immaginiamo quindi magari che io ho un canale con Fabio. Questo canale viene scritto come transazione vera e propria all'interno della blockchain di Bitcoin, però tutti i pagamenti che poi io e Fabio ci faremo l'un l'altro non verranno mai iscritti. Quindi un canale, tra me e Fabio, rimane aperto, viene scritto sulla blockchain, ma durante il tempo in cui rimane aperto possiamo scambiarci all'infinito pagamenti tra di noi oppure possiamo inviare a ricevere pagamenti anche da e verso altri, ok? Senza doverli iscrivervi nella blockchain. Quindi è un metodo, Lightning Network è un modo, è un livello al di sopra di Bitcoin che ci permette di, non solo di scalare Bitcoin, perché va contro tutte le frizioni di, come posso dire, di attesa, delle conferme delle transazioni, tutte le frizioni di trasparenza, perché tutto è pubblico, ma appunto ci permette anche, insomma, di scalarlo, di poter fare potenzialmente infinite transazioni e rendere Bitcoin essenzialmente un sistema di pagamento molto migliore di quanto è oggi. Ok, ok. Quindi è una rete costruita al di sopra di Bitcoin per accelerare i pagamenti e risolvere alcune problematiche legate magari a Bitcoin come infrastruttura, ne risolva alcuni, però è sempre Bitcoin, ok? È sempre Bitcoin. Ok, in che modo quindi Lightning Network si affianca a Bitcoin lato privacy? Cioè, com'è che questi due sistemi riescono a convivere e a creare una infrastruttura ancora più resiliente? Ma, perché essenzialmente le transazioni su Lightning Network non vengono appunto, come ho detto prima, scritte sulla blockchain. Le transazioni sono conosciute solamente tra destinatario e emittente di un pagamento in questo caso. Ma sentite che dico spesso pagamento e transazione? Perché in realtà sono due concetti, sono due termini che sembrano simili, ma in realtà sono diversi e dovrebbero essere utilizzati in contesti diversi. Su Bitcoin noi facciamo transazioni, su Lightning Network noi facciamo pagamenti, sono due cose diverse. Le transazioni su Bitcoin sono conosciute da tutta quanta la rete, da tutto quanto il Bitcoin Network, i pagamenti su Lightning Network sono conosciuti solamente da mittente e destinatario di Lightning Network. Tra mittente e destinatario però non è che deve essere solo un passaggio. Su Bitcoin on-chain io faccio una transazione a Fabio, invio dei Bitcoin a Fabio, ok? Questa transazione è scritta peer-to-peer, da persona a persona, cioè un passaggio. Su Lightning Network questa cosa è invece diversa, perché io so un canale con Fabio, posso fare un pagamento a Fabio, tale pagamento non viene scritto in alcuna blockchain ed è un passaggio. Però io magari non ho un canale diretto con Fabio, potrei avere un canale con Marco che ha un canale con Maria che ha un canale con Fabio e questo quindi mi permette di inviare a Fabio dei Bitcoin in maniera più veloce, più confidenziale e più privata, sfruttando il canale che io ho con una persona che poi ho un'altra persona e che ho con Fabio. Quindi per questo è una rete di canali in stradati. Io posso quindi come nodo inviare Bitcoin, pagare altri nodi o farmi pagare da altri nodi, però non sono obbligato a fare solo un passaggio come succede nella blockchain di Bitcoin. Posso farne tanti e tutti i nodi intermedi, tutti i canali intermedi tra me e Fabio non possono venire a conoscenza di chi sia il mittente e il destinatario. Quindi sono, diciamo, a un livello di sviluppo di Bitcoin che potrebbe sembrere complesso a prima vista, a primo ascolto, ma in realtà è molto molto semplice. Questa cosa qua noi già la facciamo in realtà oggi. Cioè, immaginiamo per esempio, non so se hai mai parlato di VPN, se ho mai parlato di Tor, Fabio, all'interno di questo canale, ma il concetto è circa lo stesso. Lightly Network si basa sul concetto di Onion Routing a cipolla. Immaginiamo quindi che io voglio inviare una cipolla a Fabio. questa cipolla dentro potrebbe contenere un messaggio come tanti auguri, potrebbe contenere un Bitcoin se non li ho persi tutti in un incidente nautico, o potrebbe contenere altre cose interessanti che io voglio inviare in maniera confidenziale a Fabio. È una cipolla, Onion Routing, Onion deriva da cipolla. Io posso inviare questa cipolla direttamente a Fabio che la sbuccia e vede dentro cosa c'è. Però appunto, come ho detto prima, posso inviare questa cipolla a Fabio avvalendomi di altri intermediari tra me e Fabio perché se io e Fabio non abbiamo una connessione, un canale diretto, ecco che devo inviare questa cipolla a Mario, a Marco che la invia a Maria, eccetera. La cipolla quindi da ogni intermediario viene sbucciata, ok? Strato per strato. Quindi, gli intermediari non possono vedere cosa c'è dentro la cipolla, solo Fabio che è il destriatore può vedere la cipolla. Però tutti gli intermediari che sono di mezzo praticamente sono uno strato in più della cipolla che possono poi sbucciare e passare al, diciamo, al nodo successivo. È una metafora che viene spesso usata all'interno di Onion Routing che ho cercato di semplificare al massimo. Sono, diciamo, sarebbero tante cose da dire su questa cipolla, su come funziona, su come viene passata. Ok. Ovviamente non parleremo di cose troppo tecniche. Anche perché cipolle, formaggi, nel Bitcoin c'è sempre questo aspetto, sai, pizze, pizze, c'è sempre qualcosa. Comunque, restando su Lightning, quindi l'idea è che tu passi un pagamento, hai detto bene, hai fatto bene a fare la distinzione tra pagamento e transazione. Tu con Lightning stai passando un pagamento in questo network che arriva al destinatario, ma questo pagamento non viene scritto sulla blockchain perché si appoggia proprio su Lightning Network che non ha una blockchain. No. In poche parole, essendo una rete diversa da Bitcoin, non ha la sua blockchain, ma si appoggia su Bitcoin come tecnologia base. Quindi c'è il vantaggio principale, lato privacy, che la transazione che avviene tra gli utenti non è scritta da nessuna parte, uno, e due, questo passaggio della rete si sviluppa come l'Onion di Tor, l'Onion routing di Tor, quindi il messaggio resta anonimo perché le parti non riescono a intercettare troppe informazioni. Poi sono sicuro che ci sono altre problematiche, però l'idea è quella che c'è un passaggio di un pagamento che viene effettuato e non viene scritta sulla blockchain, quindi lato privacy qua c'è già un enorme guadagno. Ma quindi questo significa che con Lightning Network abbiamo risolto tutti i problemi di privacy di Bitcoin o ci sono altri tipi di problematiche? No, e ti risponderei correggendo una cosa che hai detto. Ti ho detto che non viene scritto niente, giusto? In realtà qualcosa viene scritto. Nella blockchain di Bitcoin noi scriviamo dati che vengono condivisi visti da tutti, ok? su Lightning Network noi scriviamo comunque informazioni. Quando inviamo dei Bitcoin su Lightning Network io magari voglio inviare dei Bitcoin voglio pagare Fabio io conosco quel pagamento Fabio conosce quel pagamento e entrambi scriviamo che quel pagamento è avvenuto. Quindi diciamo che se la blockchain è un libro master condiviso da tutti possiamo definire Lightning Network come un libro più piccolino in cui io e Fabio ci scaviamo informazioni però solo io e Fabio abbiamo quel libro, ok? Solo io e Fabio vediamo esattamente lo stato del nostro canale e quanti Bitcoin io e quanti Bitcoin a lui. Però appunto Lightning Network non va a risolvere tutti i problemi di privacy di Bitcoin perché comunque si appoggia a Bitcoin. Ricordiamoci appunto che quando io e Fabio creiamo un canale lo scriviamo su Bitcoin questo canale. Io ad esempio posso creare un canale da un Bitcoin con Fabio. Facciamo tutte le transazioni che vogliamo nel mentre anche per un giorno sei giorni sei mesi un anno dieci anni quanto ci pare. Quando ci siamo stufati di utilizzare quel canale o quando quel canale non ha più fondi dentro perché magari io ho pagato Fabio e poi Fabio ho pagato qualcun altro possiamo chiuderlo ed ecco che quando chiudiamo quel canale andiamo a scrivere un'ulteriore transazione nella blockchain di Bitcoin. Quindi Lightning si si appoggia a Bitcoin ma si appoggia in modo tale che comunque le transazioni vengono comunque scritte all'interno della blockchain e tutti i pagamenti che avvengono tra me e Fabio vengono scritti all'interno dei nostri nodi. Tutti i canali tutti i saldi dei canali sono sempre aggiornati in tempo reale perché la liquidità all'interno di questa rete cambia in continua evoluzione. Ricordiamoci quindi che siccome è una rete composta da decine di migliaia di canali e per inviare Bitcoin tra me e Fabio non dobbiamo avere un canale diretto ma possiamo utilizzare i canali intermedi. Ecco che tutti questi canali scrivono dei dati ma che solo loro conoscono ok? La bellezza però qual è? Che a differenza di Bitcoin dove tutti sanno tutto di tutti su Lightning solo io e Fabio conosciamo il nostro pagamento. Tutti i nodi intermedi sanno che la liquidità si sposta in un certo modo in modo atomico in modo trustless senza fiducia senza dar fiducia. Però insomma la privacy è tutelata da questo concetto di on-on-on-out-outing. Ci sono tante cose di cui parlare il lato privacy di Lightning Network. Ad esempio il concetto di identità. Se su Bitcoin noi per avere un indirizzo possiamo scaricare tranquillamente un wallet crearlo ed inviarlo a Fabio su Lightning è diverso. Se io voglio ricevere Bitcoin da Fabio voglio farmi pagare da Fabio ho bisogno di condividergli qual è il mio nodo qual è il destinatario a cui inviere questo pagamento. E questo destinatario non è un semplice indirizzo come Bitcoin ok? Fabio è su Bitcoin on-chain può farmi un pagamento anche se io sono offline perché è un indirizzo che esiste sulla blockchain ed è finita lì. Su Lightning è diverso io devo essere online io devo annunciare un mio IP devo dire dove mi trovo su internet ok? Quindi si aggiungono informazioni che vado a comunicare a Fabio non solo a Fabio ricordiamoci che comunque i nodi e i canali se voglio possono essere pubblici e annunciati quindi su Lightning Network per definire un'entità un nodo ok? o se vogliamo chiamarlo un mittento destinatario serve conoscerne l'IP serve conoscerne che canali ha serve conoscerne altre informazioni quindi diciamo ci sono pure contro se usato bene Lightning favorisce tantissimo la privacy aiuta tantissimo a fare pagamenti davvero privati in Bitcoin però ciò presuppone uno studio una conoscenza di come funziona Lightning anche a livello base che è molto semplice in realtà da capire e spero appunto che questo video possa essere un inizio per farvi interessare a questa tecnologia per poi insomma andare a sviluppare le vostre conoscenze perché è molto 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 figa e interessante sì infatti Lightning è veramente una delle innovazioni su Bitcoin che a mio avviso avranno il maggior impatto per l'adozione sia vabbè lato privacy ma anche per gli utilizzi che se ne si può fare se ne possono fare ecco ovviamente tutte queste informazioni che tu stai dando su canali nodi pagamenti emittente destinatario IP e compagnia bella sono tutte informazioni che nel libro che hai tradotto vengono trattate no? cioè in che modo la privacy viene cioè se uno si vuole come dire avvicinare a Lightning Network anche lato privacy nel libro che stai per pubblicare vengono trattate ovviamente queste informazioni cioè come come è strutturato il libro da questo punto di vista anticipiamo a parte che si può già vedere in realtà la versione inglese come è strutturata però insomma c'è assolutamente un capitolo intero alla sicurezza privacy di Lightning Network che mostra come funziona la privacy di Lightning Network la differenza di privacy tra Bitcoin non c'è nel Lightning Network gli attacchi che noi possiamo fare gli attacchi di down di un'animizzazione di Lightning Network che possiamo fare contro altri utenti e come difendersi da tali attacchi cioè il libro Mastery Lightning Network che uscirà appunto il 25 febbraio che tra l'altro ho messo questa questa maglietta non a caso durante il Pizza Day il Lightning Pizza Day che è un anniversario che ricorre ogni 25 febbraio perché il 25 febbraio del 2018 Laszlo Hayes il famoso ragazzo che si spese 10 mila Bitcoin per due pizze fece un'altra transazione tramite Lightning questa volta quindi si celebra il Lightning Pizza Day il libro uscirà appunto il 25 febbraio per l'anniversario e essenzialmente è la Bibbia su Lightning Network cioè va a spiegare in modo molto tecnico come funziona Lightning Network la storia di Lightning Network il futuro di Lightning Network sotto tantissimi punti di vista è un libro che comunque è adatto a chi è interessato alla tecnologia a chi vuole capirne di più e secondo me non è neanche necessario che uno sia uno sviluppatore un esperto perché la maggior parte dei capitoli sono comunque fruibili leggibili da tutti Lightning Network comunque è una cosa tecnica Bitcoin è una cosa tecnica e se vogliamo capirla dobbiamo comunque essere un minimo curiosi verso la tecnologia perché è molto molto figa però insomma si assolutamente parla dall'ala z di Lightning Network in sé lo diciamo parla anche molto di Bitcoin perché Lightning Network vive ed esiste grazie a Bitcoin ed è un po' dato a tutti è abbastanza lungo perché sono più di 500 pagine ed è uno di quei libri secondo me che vanno letti e riletti nel tempo io ricordo ancora la prima volta che lessi Master in Bitcoin che è essenzialmente la stessa cosa però per Bitcoin che parla solo di Bitcoin e l'ho letto almeno 4-5 volte ok e tuttora ogni tanto vado a leggermi delle cose Master in Lightning Network è molto simile c'è la bibbia di Lightning Network che ti spiega da là la z cos'è come funziona in modo tecnico e non e ti permette veramente di diventare uno specialista di questa cosa qua e secondo me è una sorta di una sorta di investimento che la gente deve fare in educazione come ho detto prima Bitcoin Lightning Network sono tecnologie sono innovazioni che probabilmente rimarranno nel tempo e sono cose molto interessanti che si stanno diciamo allargando macchia d'olio nel mondo quindi a prescindere che noi semplicemente vogliamo utilizzarlo meno dovremo studiarle adesso abbiamo anche la possibilità non solo di essere degli utenti finali ma essere parte integrante di Lightning Network essere degli operatori di Lightning Network possiamo anche costruirci del business attorno al Lightning Network che ci permette di farlo quindi secondo me è una di quelle cose a cui dovremmo veramente investire del tempo investirci del denaro energie e metterci là a studiarlo perché ha tante possibilità non solo per migliorare le nostre finanze anche le nostre finanze cripto finanziarie i nostri asset cripto finanziari per spendere in maniera più veloce più privata più economica ma anche per costruirci del business sopra e anche per guadagnarci qualcosa perché ricordiamoci che io per inviare a Fabio posso farlo direttamente con un canale ma se non ho un canale con Fabio e devo utilizzare il canale di Marco e di Maria ecco che Marco e Maria potrebbero chiedermi delle commissioni esattamente come io pago delle commissioni on-chain e miner Marco e Maria potrebbero chiedermi delle commissioni per far sì che i miei bitcoin arrivino a Fabio e quindi Lightning Network permette anche di monetizzare i nostri bitcoin in maniera trustless quindi senza far affidamento ad un'attività centralizzata che come abbiamo visto può scappare col malloppo e dire ciao ciao e ci permette anche di far fruttare i nostri bitcoin per assurdo cioè di guadagnare mettendo a disposizione liquidità per tutti gli altri utenti che vorrebbero utilizzare le altre network partecipando all'infrastruttura tu contribuisci essendo un peer però con Lightning rispetto al nodo bitcoin con il nodo Lightning puoi guadagnarci qualcosa adesso non è che uno si mette di guadagnarci qualcosa si immagina chissà che però è proprio quello il bello che tu partecipi all'infrastruttura per il tuo servizio ricevi un qualche una qualche sorta di corrispettivo no? sì la maggior parte delle persone è negativo ovviamente perché comunque io ho spiegato questa cosa anche per far capire le potenzialità economiche lato business di Lightning Network ma Lightning Network non deve essere visto come un modo per guadagnare bitcoin assolutamente no deve essere visto come un modo per utilizzare bitcoin in maniera migliore sotto alcuni punti di vista ovviamente Lightning Network nasce per fare pagamenti di piccole entità parliamoci chiaro possiamo fare pagamenti anche molto grossi però nasce per fare micro pagamenti cose che richiedono velocità poche commissioni quando dici micro pagamenti dacci una misura di quanto sono micro questi pagamenti un euro un centesimo allora io posso andare al bar e comprarmi un caffè con bitcoin e inviargli un euro ok ma potrebbe essere che vada a spendere on chain 10 centesimi per fare questa prestazione 20 centesimi non lo so anche un centesimo che è tantissimo per fare una transazione da un euro e non solo io devo aspettare tot minuti per la conferma nessun esercente nessun barista direbbe ok sai cosa tu pagami poi speriamo che arrivino i miei bitcoin che vengono confermati il prima possibile no dovremmo attendere una conferma cosa che è impensabile Lightning Network risolve questo problema è istantaneo il settlement ok è istantaneo dei pagamenti io te l'invio dopo pochi secondi tu ce l'hai già e nessuno può fare in modo che quel bitcoin torni indietro a me non posso chiedere un reso esattamente come su bitcoin non c'è ma in maniera molto più veloce quindi vedete se dovessi pagare un caffè o dovessi per esempio donare a checkpoint bitcoin grazie al QR code che dovreste vedere qua vicino sarebbe molto meglio utilizzare Lightning Network perché sarebbe istantaneo se io volessi donare un dollaro 5 dollari 10 dollari a Fabio e fatelo perché ci vuole insomma sostenere queste queste cose educative sarebbe molto più conveniente sia per il il mittente sia probabilmente per il destinatario farlo tramite Lightning Network perché costa meno più veloce e poi ricordiamoci anche una cosa io magari ti invio un dollaro ok ma poi devi essere te a se un cavolo tu hai a spendere quel dollaro poi costa anche a te allo stesso modo rispenderlo e inviarlo su Lightning Network questa cosa non accade quindi tu mi chiedi quale cifra non lo so quale cifra il Lightning Network nasce per micropagamenti ma oggi possiamo tranquillamente inviare Bitcoin interi su Lightning Network decine di migliaia di dollari in un'unica transazione potenzialmente centinaia di migliaia di dollari milioni di dollari non c'è limite non c'è veramente limite il limite è diciamo del nostro nodo quanta liquidità noi abbiamo disponibile nel nostro nodo quello è l'unico limite di Lightning Network ovviamente però la sicurezza a mio parere on chain le conferme il mining proof of work che c'è dentro Bitcoin è ineguagliabile quindi per pagamenti molto grossi si sposteranno Bitcoin on chain per pagamenti quotidiani pagamenti magari che non richiedono un elevato grado di fiducia possiamo utilizzare tranquillamente Lightning Network uno che vuole iniziare ad interagire con Lightning Network ok immaginati qualcuno che finora ha solo usato Bitcoin ha iniziato ad usare Bitcoin e con questa intervista sentirà parlare di Lightning Network come fa anzi di cosa ha bisogno come può fare per iniziare ad utilizzare Lightning Network e testare provare questa tecnologia ma ci sono tante c'è una checklist una non lo so come li battezzi quelli che entrano in Lightning Network è difficile perché essenzialmente bisogna sempre scendere a compromessi Lightning Network per funzionare in maniera corretta secondo un punto di vista di privacy di autocustro dei fondi eccetera quindi tutte le cose che dovremmo fare richiede di avere un nodo esattamente come Bitcoin dovrebbe richiedere davvero un nodo giusto per validare le nostre transazioni non esporci ad altri nodi non condividere informazioni sulle nostre finanze eccetera quindi in realtà uno deve scendere a compromessi è difficile dare una risposta perfetta perché essenzialmente i nodi di Bitcoin esattamente come i wallet di Bitcoin sono come un paio di scarpe ok ognuno ha un paio di scarpe diverso c'è chi magari gli piacciono le Nike c'è chi gli piacciono le Adidas che piacciono gli stevaletti i mocassini dure grandi gialle verdi insomma ci sono mille cose mille tipi di scarpe mille tipi di nodi e wallet che possiamo utilizzare la referenza principale qual è? custodial non custodial siamo in possesso dei nostri fondi o altre persone o altri nodi sono in possesso dei nostri fondi ecco questa è una domanda difficile a cui rispondere io penso che non sia diciamo una cosa estremamente negativa vuol dire no no non fatelo utilizzare wallet o utilizzare nodi custodial all'inizio una persona potrebbe tranquillamente scendere al compromesso tale da dire ok rinuncio a controllo a potere dei miei bitcoin a privacy dei miei bitcoin per avere una usabilità migliore e questo essenzialmente sulla maggior parte di wallet custodial se invece voglio avere totale controllo totale privacy totale gestione patrimoniale di bitcoin ecco che devo avere un nodo ma ciò presuppone che tu sia l'unico garante della sicurezza e della privacy di quel nodo di quei fondi quindi è difficile non fare errori tutti noi facciamo errori quello che io consiglio è quello di leggere è quello di studiare è quello di guardare questo tipo di video capirne un po' di più perché tanto nessuno ci mette fretta ok e soprattutto volete testare potete testare anche in testnet se non volete rischiare i vostri fondi potete farlo in maniera diciamo gratuita con bitcoin finti ok insomma cosa direi a una persona che si affaccia all'etern network guardate questo video guardate altri video leggete il libro informatevi e iniziate do your own research ci sono tantissime cose a disposizione e cercate il vostro paio di scarpe che fa allora Riccardo io ho già capito che tu hai voluto dare la risposta come dire diplomatica la risposta in cui si devono bilanciare tutti gli elementi per fare le cose fatte bene e quello è un approccio un altro approccio che magari anche io ho avuto al lightning network ho scaricato la mia bella app io uso wallet of satoshi ho messo dei sat ho fatto una transazione praticamente sul mio wallet in modo tale da avere i satoshi sul wallet e poi ho iniziato a giocare ovviamente ho fatto ovviamente questo non è il modo migliore per approcciarsi al lightning network privacy probabilmente non è così però almeno cominci almeno cominci poi da lì ti rendi conto che hai fatto un sacco di minchiate e dovrai recuperarlo perché secondo me il punto qual è che nessuno si approccia a bitcoin prima si fa il nodo poi si compra il wallet poi compra bitcoin di solito è il contrario prima compri bitcoin poi compri il wallet poi magari indomani ti fai anche il nodo se te lo fai bravo ti ho detto una cosa giusta secondo me c'è un problema all'interno della comunità di bitcoiner che noi vogliamo spingere tutti ad essere omologati allo stesso modo cioè tutti devono far così no no chi vuole può fare un certo modo chi vuole può fare un altro modo tu sei sceso il compromesso di utilizzare wallet of satoshi perché per il tuo caso va benissimo così io credo che la maggior parte di utenti oggi utilizzi ancora exchange centralizzati utilizzi wallet custodial perché funzionano perché vanno benissimo per il loro caso d'uso ok quindi non è che noi dobbiamo spingere tutti ad avere un nodo non è che dobbiamo spingere tutti a noi dobbiamo siccome incuriosire le persone farle appassionare questi temi farle capire come fare le cose e perché farle poi ognuno prenderà la propria strada non è che tutti dobbiamo essere cypherpunks full senza che vuoi si tutto non custodial si ma anche perché se vuoi se arrivi dopo a questi concetti se ti interessano non è che uno parte e si innamora di quella filosofia non è così anche perché bitcoin è coperto da talmente tanti strati di di cazzate nel mainstream che arrivare alla come dire alla realtà di bitcoin ti vuole un po' ti vuole un po' di tempo tra l'altro è anche giusto quello che dici tu le persone vanno un po' incuriosite e poi da lì si faranno il loro percorso cioè si faranno il loro viaggio nella taglia del bianconiglio ma cioè per dirti quando io iniziato ad usare il QR code di open tip mi è capitato di condividere anzi di essere con una mia amica che si fa che si occupa di tutt'altro però anche lei fa dei contenuti online e l'idea che potesse ricevere un pagamento così in maniera istantanea dal 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 suo pubblico l'ha cioè l'ha incuriosita moltissimo molto più di tutte le discussioni di tutte le mie capito tutto ciò che avrei potuto dirlo sul network peer to peer inconfiscabilità delle transazioni l'inflazione la moneta fiat i governi tutte ste cose non hanno non avrebbero avuto la stessa presa che vedere che tu puoi mettere il tuo contenuto online e qualcuno lo apprezza e può mandarti del denaro che potrai spendere in un altro modo quella è una cosa e questo secondo me facilita l'adoption molto più di tante altre cose che poi è anche giusto che ci siano sai chi difende non chi difende chi parte dai principi di bitcoin ci sta lo faccio anch'io però mi rendo conto che a volte non è il metodo più funzionale o non è il metodo che funziona con tutti non lo è assolutamente allora è importante avere lo zoccolo duro di cypherpunks imparare nella privacy hacker eccetera perché sono quelli che sono lo zoccolo duro che tiene in piedi bitcoin alla fine ok però le cose devono essere semplici ok prendiamo per esempio iphone ios e android samsung o google eccetera ios funziona ed è amato perché è semplice da utilizzare non ti dà tutto il controllo che android ti dà ok stessa cosa windows mac os sono molto più utilizzati di linux perché sono più semplici da utilizzare e alla fine uno può avere tutto il controllo che vuole ma se non se ne fa nulla non ha bisogno di quegli strumenti quindi secondo me bisogna spiegare alle persone le differenze tra lightning bitcoin la moneta fiat le carte di credito il contante le differenze tra windows mac os linux eccetera e poi ognuno capirà cosa fa per sé cosa fa per lui ok si tratta proprio di fare planning ok quando noi andiamo a comprare per esempio un vestito o un paio di jeans ce li mettiamo addosso ce li proviamo ci guardiamo allo specchio magari pensiamo anche se prendiamo dei chili tra 6 mesi o se siamo sotto periodo natalizio o meno cioè facciamo anche supposizioni no quindi essenzialmente la privacy la sicurezza di bitcoin e di lightning sono esattamente identiche cioè noi dobbiamo capire a che punto siamo oggi cosa vogliamo raggiungere oggi dove potremo trovarci tra 6 mesi un anno 5 anni e da là definire un processo una strategia un wallet un nodo no qualsiasi cosa si chiama security planning e privacy planning cioè avere dei piani avere perlomeno un'idea di quello che abbiamo a disposizione nel mercato di quello che potrà accadere da qua i prossimi 5-6 mesi un anno e poi definire un percorso ma questa cosa qua deve partire da voi stessi guardate questo video cioè avete incominciato a guardare i video di Fabio avete incominciato ad appassionarvi su alcuni temi provate sta adesso sta a voi ok ci sono mille cose che potete fare mille cose diverse con pro e contro ognuna è diversa dall'altra e magari può fare per me o per Fabio per esempio Fabio utilizza wallet of satoshi io magari ho un nodo ok ed è così magari Fabio tra 6 mesi avrà un nodo e io tra 6 mesi no cazzo ho perso tutto era meglio wallet of satoshi nel senso è così vedete la dinamicità di bitcoin di lightning è sempre in movimento non c'è non c'è nulla di giusto non c'è nulla di corretto o sbagliato è tutto in movimento è tutto un processo è tutto un continuo imparare testare e capire cosa fa per noi ok senti hai menzionato il security planning un altro concetto secondo me che vale la pena conoscere per chi si affaccia a bitcoin sia lato privacy che anche lato custodia è il concetto di threat model e cioè ciò da cui ti devi difendere perché uno potrebbe pensare che si approccia la privacy si approccia la custodia deve pensarle tutte e quindi avere raggiungere un livello una struttura di fare una strategia per custodire per proteggere la sua privacy eccetera eccetera che deve comprendere qualsiasi evento in realtà non è così ed è quello il punto del threat model quindi per chi si approccia alla custodia e alla privacy come si sviluppa il threat model il proprio threat model allora l'essere umano è scemo a me piace dire che è stupido perché noi sottovalutiamo rischi imminenti e sopravvalutiamo rischi remoti cioè la maggior parte delle persone si tuffa in oceano però cioè quando si tuffa in oceano dice cavolo ho paura perché uno scolo mi mangia ok però magari un'ora prima ha mangiato una carbonara ha mangiato una carbonara e si tuffa e muore ok come si dice di digestione non lo so vabbè però si resta lì mangiare esatto è la stessa identica cosa cioè noi andiamo magari a pensare ad attacchi hacker complotti governativi e l'hacker è il gruppo che ci fa questo e quest'altro sì ma ma tu chi sei cos'hai ok quanto vali come persona quanto valgono i tuoi asset le tue informazioni i tuoi documenti i tuoi bitcoin allora molte persone magari incominciano ipotizzare scenari drastici ok remoti estremamente remoti magari però non si rendono conto che tra dieci anni tra vent'anni tra trent'anni potrebbero soffrire di demenza e potrebbero scordarsi del sì di bitcoin o scordarsi dove hanno nascosto il sì di bitcoin o ancora io potrei preoccuparmi di qualcuno che vuole tracciare i miei fondi ok però magari faccio un piccolissimo errore che mi fa crollare tutto il castello di carte perché non ho considerato quella specifica vulnerabilità ok allora il threat model ok il security planning si basa sul identificare chi siamo identificare cosa abbiamo identificare il valore delle cose che abbiamo e identificare chi sono i nostri nemici che potere hanno che competenze hanno e qual è il costo nell'attaccarci ok nel senso che la maggior parte delle persone a mio parere dovrebbe semplicemente preoccuparsi di come creare un wallet di bitcoin sicuro come salvare il seed e dove salvarlo fine tutto il resto viene dopo tutto il resto verrà magari dopo noi oggi possiamo ipotizzarlo possiamo dire ok potrebbe accadere questo però dobbiamo avere siccome è un'idea chiara a 360 gradi di tutto quello che potrebbe accadere e qual è la gravità se ciò accade cosa comporta e anche qual è la percentuale che ciò accada ok cioè è inutile pensare per esempio lo dico perché magari questo messaggio arriverà a molti e voglio dirlo cioè preoccupatevi di più se c'è un terremoto un incendio un allargamento a casa vostra se il vostro si è dal sicuro piuttosto che del gruppo di hacker che vi mette il virus eccetera nell'hardware wallet eccetera nel senso quelle cose sono più remote cioè preoccupatevi dei rischi imminenti delle cose preoccupatevi di voi stessi sì sì perché alla fine l'errore l'errore l'essere umano è quello che compie l'errore l'informatica nella maggior parte dei casi funziona e funziona molto bene il fattore x è quello umano l'essere umano è quello che fa errori e li fa in base ad emozioni in base a frettolosità in base a disinformazione quindi ripeto educatevi prendetevi del tempo studiate perché esattamente come tutti noi abbiamo studiato come iscriverci a facebook come cercare dati su google e come utilizzare l'home banking le applicazioni tutti noi pian piano incomincieremo a studiare e capire come funziona bitcoin si è importante stimare quindi le problematiche reali e più probabili invece che preoccuparsi di qualcosa che è più remoto e quindi magari ci tocca di meno quindi questa è l'idea sia l'autocustodia che l'autoprivacy cercate di fare un assessment cioè di valutare quali sono realmente le minacce chi è che vuole mettere il naso nei vostri affari e così via ok tornando un po' al libro visto che siamo quasi in chiusura tornando un po' al libro durante la traduzione di Mastering Lightning Network hai avuto qualche momento sai il momento wow che ti ha che ti è esplosa la mente detto ah sta cosa non l'avevo pensata in realtà sì ma nei primi capitoli per assurdo perché ti fa capire veramente il concetto di fiducia di protocolli di equità di teorie dei giochi e soprattutto vedete le metafore che sono inserite dentro sono molto molto interessanti per esempio una metafora una spiegazione di come funziona un protocollo di equità e il sistema di incentivi nella trilia dei giochi è immaginate di essere un padre di famiglia ok con due bambini ed entrambi i bambini vogliono mangiare le patatine fritte come fate a fare in modo che non si scanino l'un l'altro sono tutte queste metafore molto belle interessanti che fanno capire i protocolli di equità come suddividere equamente degli asset tra due persone e non fare in modo che uno frighi quell'altra che sta alla base esattamente di bitcoin e di lightning network però ecco una cosa che devo dire di cui vado fiero è che io l'ho letto massing lightning in inglese e ho faticato a capirlo ok io che comunque ci vivo che è il mio pane quotidiano questo da tanto tanto tempo ho faticato a capirlo perché purtroppo vedete per quanto uno possa conoscere l'inglese per quanto uno possa conoscere bitcoin e lightning network è comunque molto difficile da capire con determinati termini tecnici quindi secondo me ecco il tradurlo me l'ha fatto comprendere di più per assurdo cioè io mentre traducevo e tuttora mentre lo revisiono controllo delle cose comprendo sempre più cose è per quello che dico che poi va a riletto e lo rileggerete ma perché anch'io oggi continuo a informarmi è lo stesso motivo per cui non dico che sono un esperto perché non potrò mai essere un esperto bitcoin tocca così tante cose psicologia sociologia matematica teoria dei giochi finanza economia libertà eccetera che non può essere un esperto puoi essere un curioso appassionato diventare specialista crearti una professione molto verticale e specializzarti su quella però wow secondo me il wow è è stato sono state nei primi capitoli proprio la parte teorica perché comunque la parte sapete pratica tecnologica tecnica è bella interessante perché poi fa capire tutti i meccanismi fino al piccolo dettaglio di come funzionano certe cose e perché funzionano sono quelle date sono sicure però è la parte diciamo un po' più astratta che è molto carina secondo me e secondo me è quella la cosa importante da fare cioè l'educazione deve partire da cose astratte da cose comprensibili da tutti e poi c'è chi come la tua amica gli scatta la lampadina per quello specifico motivo e magari c'è quell'altro amico che gli scatta un'altra lampadina per un altro motivo però nello stesso discorso ognuno di noi ha passioni diverse io ho la passion della sicurezza informatica della privacy non so faccio una domanda a te cambiamo intervistatore intervistato a te ad esempio cosa piace di Lightning e cosa ti ha fatto dire wow di Lightning Network ma secondo me è proprio l'approcciabilità di Lightning Lightning io lo vedo come un sistema immediato che ti fa percepire immediatamente la potenza di Bitcoin a me il momento wow l'ho avuto quando ho fatto una donazione con Lightning Network tra l'altro a Tor alla fondazione qualche anno fa ho fatto questa donazione e lì mi sono detto cazzo c'è un pagamento istantaneo senza banche in mezzo senza nessuno in mezzo ma questa è una cosa potentissima tra l'altro di qualsiasi importo perché poi con Lightning puoi mettere anche una frazione di centesimo di euro e quello è anche interessante da un punto di vista proprio di creazione di contenuti cioè ci sono tanti aspetti di Lightning che sono affascinanti per me è proprio questa capacità di interagire in maniera istantanea con un peer o con un'altra persona o con un'altra entità che sta facendo qualcosa che ti che vuoi supportare infatti per me una delle cose più belle di Lightning è proprio la possibilità di fare donazioni che ne so ai famosi tracker canadesi piuttosto che a Thor piuttosto che anche un content creator come me magari che fa qualcosa mi piace questa cosa lo ringrazio e poi lo puoi utilizzare in molti altri modi anche nel marketing io mi occupo di marketing quindi sono anche incuriosito dalle potenzialità di Lightning Network con il marketing con cosa si può costruire cose che oggi non puoi fare magari con Lightning sono sicuro che spunteranno tanti nuovi modi di interagire con i creator con le aziende e modi per le aziende di interagire con il loro pubblico ci sono tante cose quindi e soprattutto puoi utilizzare Lightning non solo per uno scopo puramente economico finanziario ma dietro Lightning possiamo scambiarci messaggi cioè oggi ci sono servizi di messaggistica basati su Lightning Network ci sono servizi incredibili che nasceranno e che devono ancora essere ideati che possono essere creati su Lightning Network quindi veramente non c'è limite alla creatività né su Bitcoin né su Lightning Network e questa è una cosa che la gente deve capire Bitcoin le unità di Bitcoin i satoshi il valore glielo diamo a noi ok un valore economico finanziario ma noi Bitcoin possiamo vederlo anche semplicemente come un libro master dove scrivere informazioni Lightning possiamo vederlo come un diciamo un livello ok di comunicazione tra persone ripeto ci sono tantissime cose da sviluppare e secondo me vedete l'incensurabilità e la capacità di non essere interferiti da entità centrali come governi banche eccetera è una figata incredibile cioè la libertà che dà Bitcoin e Lightning Network è enorme è enorme è per questo che dico che è una rivoluzione che non può più fermare la regolamentazione di cui si parla tanto è inutile perché tu non puoi regolamentare qualcosa che nasce per essere per essere libero per non essere regolamentabile e vedete proprio esattamente come internet ha permesso il libero scambio di informazioni andando contro tutte quelle entità che vogliono limitare le informazioni e censurarle Bitcoin e Lightning ancora di più fa lo stesso col denaro cioè fornisce una finanza decentralizzata che è che non può essere interferita da entità centrali che vogliono censurarle bloccare pigno raro o quant'altro cioè è libertà pura la libertà però richiede protezione la libertà richiede studio Bitcoin è trasparente la trasparenza richiede protezione e privacy Lightning fa un passo ancora successivo perché se Bitcoin è un sistema che noi possiamo utilizzare tranquillamente offline che non ci spone a rischi di attacchi emoti da parte di hacker Lightning ancora oggi richiede che noi siamo online quindi comunque richiede ancora più protezione rispetto a quanta noi oggi ne diamo su Bitcoin on chain sì 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 bellissimo questa cosa e sono tutti argomenti che si possono leggere nel tuo libro sì 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 beh in realtà sì allora io ne parlo ovunque c'è un gruppo telegram di consicurezza per averci qui ne parlo ogni giorno faccio anche io dei video delle live settimanali speech eventi quadrato sono temi di cui mi piace parlare Mastery Lightning Network il libro è incentrato su Lightning Network non parliamo di ovvio parliamo anche di libertà ma parliamo di libertà specificatamente di Lightning e perché Lightning dà libertà e come la dà però insomma tutto il concetto sapete di libertà individuale essere sovereign è molto importante non a caso faccio un piccolo spoiler il libro la traduzione italiana è stata dedicata c'è proprio una dedica all'autore di The Sovereign Individual quindi un autore che già ipotizzava il futuro che stavo vivendo oggi quindi decentramento rispetto entità centrali che vogliono censurare vogliono limitare vogliono rallentare la libertà delle persone sì del Sovereign Individual ne avevamo parlato con Luca Venturini e a tal proposito ti faccio una domanda poi chiudiamo perché stiamo andando un po' lunghi ma secondo te per un Sovereign Individual Bitcoin è sufficiente? assolutamente no un vero Sovereign Individual non ha Bitcoin li ha persi tutti se li aveva quindi non è sufficiente però secondo me c'è anche da dire sì Bitcoin è uno strumento però secondo me c'è anche da dire che ti devi anche un pochino tu organizzare la tua vita per essere un Sovereign Individual scherzi a parte io penso che per essere un Sovereign Individual tu non devi essere legato ad alcun luogo geografico ad alcuna relazione cioè devi avere secondo me attorno a te tu puoi essere una moglie un'amica o degli amici persone che la pensano come te e non essere legato a un luogo geografico a un business quindi non lavorare per un'azienda ma per avere la possibilità di dire ok sai cosa ciao insomma essere libero e secondo me questa cosa puoi farla grazie a internet cioè internet apre un mondo di possibilità perché io ad esempio parlo con Fabio posso avere una relazione con Fabio possiamo diventare amici tenerci in contatto lavorare assieme mentre io sono in Guatemala e lui è alla Hawaii per esempio ok e contemporaneamente conoscere Maria che vive in Italia cioè vedete il Sovereign Individual è colui che non è limitato geograficamente finanziariamente lavorativamente però in questo caso se posso concludere dicendo una cosa filosofica però l'amore deve esserci comunque le passioni gli amici devono comunque esserci quindi è difficile non essere legati emotivamente alle persone però insomma se troviamo persone come noi che vogliono essere libere è molto poi semplice essere liberi assieme si devi bilanciare le cose ma è un po' come sai la custodia devi trovare il tuo bilanciamento il tuo equilibrio e poi organizzarti allora Riccardo siamo in chiusura quindi ti faccio la domanda di rito che faccio a tutti gli intervistati del canale allora se tu prendi bitcoin e la sua interezza in tutte le sue sfumature da tutti i suoi ponti di vista qual è quella singola caratteristica quella singola proprietà quella singola sfumatura che per te è la più affascinante di bitcoin la più quella che ti piace di più la che ti ispira è la teoria dei giochi cioè il mining il sistema di incentivi dietro bitcoin cioè bitcoin funziona perché ha un incentivo c'è degli incentivi dietro cioè il mining fornisce l'incentivo ai miner ok economico un miner trasforma energia in potenza computazionale mette in sicurezza tutta la rete permette a Riccardo e Fabio di fare transazioni tra di loro di inviare e ricevere bitcoin in maniera sicura non fidandosi di nessuno non fidandosi né di Fabio né di Riccardo né dei miner perché tutti competono in un sistema di incentivi dove chi bara viene penalizzato e non ha senso barare ha senso invece essere onesti perché essendo onesti avevamo l'incentivo economico e quindi siamo portati a non fare cavolate secondo me questa è una cosa incredibile perché vedete permette un accesso indiscriminato a tutti chiunque può partecipare in bitcoin a prescindere che sia bianco nero giallo gay etro bisex cattolico musulmano buddista a bitcoin non interessa nulla minorenne maggiorenne non ci interessa nulla puoi fare quello che vuoi se ti comporti bene se sei onesto vieni ricompensato dalla rete di bitcoin e questa è una cosa incredibile secondo me quindi la teoria dei giochi e il sistema di incentivi dietro bitcoin è una cosa pazzesca anche secondo me quello è uno degli aspetti più affascinanti anche perché uno crede che bitcoin sia tecnologia ma in realtà si è tecnologia 50% ma l'altro 50% è un insieme di incentivi economici sociali che fanno funzionare la macchina senza gli incentivi la tecnologia sarebbe azzoppata è un consenso globale tra persone che non si conoscono è una cosa incredibile ok non ho rifiutato nessuno ok Riccardo allora innanzitutto ricordaci quando esce il libro e dove ti si può trovare contattare insomma allora dove vivi digitalmente digitalmente dove vivo? sì sì digitalmente dove ti si trova metaverso ok allora potete contattarmi al se andate su riccardo masutti.com trovate tutti quanti i link la mail telegram twitter eccetera però chioccio da Riccardo Basuti un po' ovunque principalmente potete entrare anche nel mio gruppo telegram che è Bitcoin Sicurezza Privacy che è il luogo dove sono più attivo essenzialmente in relazione al libro come detto prima uscirà quindi per Lightroom Pizza Day il 25 febbraio 2023 uscirà sia in versione cartacea ci sono due versioni cartacee una copertina flessibile con internet bianco e nero una copertina rigida con internet colori e poi c'è anche la versione digitale in ebook a pagamento ma comunque siccome crediamo nella libera informazione verrà rilasciata anche una diciamo edizione gratuita che chiunque può leggersi gratuitamente nella speranza poi che qualcuno compri il libro perché secondo me la lettura è molto più immersiva nel libro non so te ma sai sono tutto il giorno davanti allo schermo secondo me ogni tanto è bello leggere la carta mi piace leggere la carta sì sono chiaramente d'accordo con te soprattutto se si parla di libri di 500 pagine che richiedono anche andare avanti e indietro avanti e indietro tra le pagine con l'ebook ciao buona fortuna se ce l'hai fisico cartaceo lo gestisci meglio perfetto direi che ci siamo dette tante belle cose io invito tutti a comprare il libro e anche a seguire Riccardo e tutte le discussioni riguardo la privacy certo avviciniamoci siamo a bitcoin però sempre un occhio di riguardo queste cose è meglio averle prima che sia troppo tardi in un certo senso è meglio sempre cominciare a considerare queste cose quindi Riccardo grazie di aver partecipato grazie a te Fabio mi raccomando donate tramite l'Italine Network che è il QR code che vedete qua o qua non lo so da qualche parte qua donate provate usare Lightning fate il vostro primo pagamento con Lightning verso Fabio esatto ok grazie Riccardo e alla prossima grazie a tutti